C'è in c'è lì. Sì. Fa molto meglio di un grado. Il medico. Si armano aperti. Mi sono sentito meglio quando ho bevuto del cogno. Può vestirsi. Il medico, il cielo e il fogno, abbiamo guerra! Quindi, sai che è il rio. Ma la parte, non ho tempo per se neanche 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 per se neanche. Vuoi provare? Sì, grazie. Sì, che lo spiega il coca. Spure che lo mettiamo in pasta, ma si pe coca. Il limoni solo in fiora. Come si è riappone? Non si può, non si può, non si può! Non si può! Grazie per la visione!